abbiamo appena guidato per una strada veramente bestiale ragazzi ma guardate dove siamo arrivati è incredibile Anamibi ogni giorno ti regala scenari e paesaggi pazzeschi Pagliare il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Allora, l'accampamento è questo. Noi siamo dentro all'Itosha National Park e preparatevi e racciatevi le cinture perché in questo video ci saranno tanti, tantissimi animali. Andiamo! Noi siamo dentro. Noi siamo dentro. Noi siamo dentro. Noi abbiamo visto leoni, ghepardi, elefanti, giraffe, tutto, 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 ma siamo incontentabili e ci facciamo pure il safari notturno. Quindi andiamo a vedere cosa c'è di notte nel safari. Ok, è arrivato il momento anche di lasciarlo, questo bellissimo parco, l'Itosha National Park della Namibia. Abbiamo visto di tutto, tutto quello che potevamo vedere avevamo visto. Pazzesco, è vero, il safari perfetto. Però l'avventura in Namibia ovviamente non è finita perché adesso ci dirigiamo nell'ultimo parco nazionale che andiamo a visitare, ovvero il Waterberg. Quindi andiamo lì. Allora, dove mi trovo adesso? Ragazzi, è un altopiano che domina questa valle incredibile, è bellissima. Cioè la Namibia è a furia di ripetermi davvero, forse non ci crederete neanche, ma è davvero un posto spettacolare. Questo viaggio straordinario rimarrà veramente indelebile nel mio memore. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.